Grazie a tutti. E questo qui è un altro veramente bello. Più piccolino, questo non è buono, molle, vabbè basta ne avanzano. Questo penso sia più bello, mamma mia, ragazzi questo è uno spettacolo. L'avevo promesso questi due sono tutti per te fra. Guarda qua che belli, bello cuoco, spettacolare. Questo piccolino lo lasciamo lì e mo ci sono questi altri due o tre qua. Allora uno è questo, là, bello. E poi c'è quell'altro che però non ci arrivo, ve lo faccio vedere. Eccolo là. Vabbè oggi è una giornata perfetta, mamma mia. Questi, poi c'era questo qua che però è piccolino, facciamolo. bello, poi ce n'era un altro dietro qui, spettacolo. No, nella mia vita, mamma. Questi sono solo i primi sono. e poi ci sono i primi sono i primi sono i primi. Si riuscì e si riuscì, che buono. Beh, si riuscì, che hai messo il comodo. Da si arrivano anche le bombe, arrivano. Mazza. Ma che roba. non si vede neanche non è un gran che è questo qua però vabbè ce lo chiamiamo un povero d'ognolo qua ce ne sono altri è un po' difficile meno male che ti ho chiamato momenti li schiaccio tutti e qui ce ne sono ancora bello questo non l'avevo visto è più bello guarda lì quei tre lì adesso li vado a prendere sono tutti qui ce ne sono ancora sotto questo qua qua è piccolo sono qua sono un po' grossi adesso vediamo se tenirli quello è grosso poi andiamo sotto qua c'è nero allora questo dunque quello non è un gran che questo si veramente poi c'era quello la in fondo adesso andiamo a prenderlo ma prima volevo fare qua si alcuni sono però grandicelli marcelli tipo questo qua forse sono abbastanza questo forse e qui si ce ne è una valanga grazie a te sopra lì te li lascio a te va qual'è? lì sopra lì dai sono un po' andati sono un po' questo non è male questo non è male questi qua è un po' a blu ma vabbè spengo il video perché quarto qui è un quarto sì wow bello spettacolo questi due vabbè questo è bello spettacolo è un po' Grazie a tutti.